Quali sono le nuove sfide a cui siamo chiamati oggi? Che cosa possiamo fare per noi stessi e per il nostro pianeta? Quali competenze dobbiamo sviluppare per costruire un futuro davvero sostenibile? Come partecipare insieme al cambiamento? Guarda ora, Patrizio Paoletti e Margret Zizcon nella serie Dialoghi sul Futuro per riflettere sulle soluzioni più innovative alle domande di questo momento. Tu sei la chiave. Guarda ora.